Presidente, si parla della possibilità di implementare il collegamento tra Napoli e Salerno con delle linee veloci, rafforzando anche il legame tra queste due città e provando, perché no, a decongestionare il traffico. Assolutamente, noi abbiamo un rapporto di collaborazione con l'Università di Salerno, con la quale abbiamo ragionato per individuare quali sono i possibili modelli di esercizio per collegare i due golfi, Napoli e Salerno, e ovviamente decongestionare un traffico stradale che dal punto di vista turistico, soprattutto nei momenti della stagione alta, diventa uno degli ostacoli principali per la fruizione delle bellezze della nostra costa. Già sono presenti alcuni collegamenti che la Regione ha finanziato e che sono operati da imprenditori del settore. Noi riteniamo che il rapporto tra l'Università che identifica alcune possibili implementazioni, le istituzioni che devono svolgere un ruolo di pianificazione e gli operatori economici che poi possono realizzare e implementare questi servizi, possa essere una utile opportunità per attivare i servizi nuovi. Qual è il risultato principale, a mio avviso, di questo studio? Avere identificato quattro possibili collegamenti che connettono i due golfi con la possibilità di cominciare a sperimentare uno di questi quattro collegamenti e vedere poi dal punto di vista operativo qual è il funzionamento e qual è la capacità operativa e la risposta da parte del mercato. In fondo il tema rilevante era quello di garantire dei collegamenti che avessero una fruibilità dal punto di vista dell'efficacia turistica ma anche del trasporto pendolare. Lo sforzo è stato questo, ovviamente discutiamo oggi dello studio, vediamo quali possano essere le tappe successive. Sui collegamenti marittimi fra Napoli e Salerno, soprattutto qual è il settore che secondo lei potrebbe essere realmente competitivo, insomma turistico, trasporto passeggeri pubblico, trasporto pubblico? Certo, noi partendo anche da altre esperienze europee e nord-europee in particolare abbiamo notato che i collegamenti non tanto tra Napoli e Salerno ma all'interno di golfi di Napoli e di Salerno sono carenti dal punto di vista del trasporto marittimo e laddove il trasporto marittimo può sicuramente creare un valore aggiunto per il territorio in quanto decongestiona la rete stradale ed è di forte supporto al flusso turistico. Quindi in quest'ottica abbiamo ipotizzato due scenari, uno è uno scenario un po' più spinto con l'utilizzo di due mezzi per ogni tratta in modo tale da rendere più veloci i collegamenti, uno scenario un po' più morbido, un po' più soft che prevede l'utilizzo di un unico mezzo veloce in collegamento su quattro linee ipotizzate, due nel golfo di Napoli e due nel golfo di Salerno. Quello che è emerso sarebbe il caso anche di attrezzare i mezzi, ad esempio tipo sightseeing con la possibilità di raccontare itinerari turistico-culturale, l'ultima ha una forte integrazione anche con il settore turistico, alberghi, lidi, ristoranti in modo tale da creare un itinerario unico in cui la fase di spostamento non è una fase scomoda per il passeggero, ma è una fase che rientra nell'intera filiera turistica appunto per creare occupazione, valore aggiunto per il territorio e il sistema economico locale. Che cosa cambia rispetto agli altri collegamenti turistici che comunque già esistono, già sono presenti in campagna? Cambia sostanzialmente l'integrazione, la nostra ipotesi è un sistema più integrato non solo con le altre modalità di trasporto in termini di coincidenze, in termini di bigliettazione unica, ma anche con gli altri segmenti della filiera turistica, cioè una spinta verso l'integrazione tra tutti gli attori che compongono la filiera turistica per dare appunto un ulteriore rilancio a un turismo che già è in crescita, che nella regione campagna sta facendo registrare notevoli percentuali in aumento.